Buon primo tempo, buonissimo primo tempo, poi nella ripresa qualcosa è cambiato? È cambiato che purtroppo il fatto che manca da diverso tempo la vittoria, dal punto di vista psicologico c'è la voglia di portare a termine il risultato, la partita, però è chiaro alla prima opportunità che loro hanno avuto alla prima occasione ci siamo un po' intimoriti, ci siamo abbassati poi dopo il pareggio addirittura non siamo riusciti per diversi minuti a giocare, poi gli ultimi 20 minuti magari l'abbiamo fatta nella metà campo avversaria, certo che dal punto di vista psicologico si sente che quando non si chiudono le partite poi si soffre, subentra l'ansia di portare a termine il risultato pieno ed è un peccato perché queste partite quando si gioca così a questa intensità come abbiamo fatto noi nel primo tempo si devono chiudere, credo che bisognava andare minimo negli spogliatori sul 2-0 A Cesena con i cambi qualcosa è cambiato, hanno ridato vigore alla squadra, oggi si aspettava qualcosa di più magari? Io non posso chiedere di più a ragazzi giovani, in questo momento noi i giocatori li abbiamo, però se sono infortunati per dare respiro a chi magari può essere un po' stanco o alternarli di partita in partita non possiamo farci niente, quando tu hai i giocatori esperti davanti come sforzino o mascara fuori che purtroppo hanno questi problemi e siamo questi in questo momento è chiaro che i ragazzi sono giovani, devono migliorare, devono avere il tempo di farlo e è chiaro in questi momenti di difficoltà servirebbe maggiore esperienza, però ripeto non è questo, al di là di giovani o non giovani queste sono partite da vincere e da chiudere nel primo tempo, è mancato il cinismo necessario che ho detto anche ieri in conferenza che è quello che ci vuole per cercare di tornare alla vittoria, perché se crei tanto e non chiudi le partite per come si era messa per come è stata impostata, per il ritmo che hai dato alla partita stessa, poi diventa facile se non fai il gol della sicurezza che ti dà poi la necessaria serenità di gestire il risultato, invece in quella maniera è chiaro che comincia un attimino il timore e di non riuscire a farlo e quindi i problemi poi si evidenziano perché non siamo una squadra votata sulla difensiva e soffriamo. Ma quello che si è visto il primo tempo, lui a differenza di Viviani pur essendo fermo magari è uno che entra subito in condizione, il dubbio mio infatti stavo, diciamo ritardato il terzo cambio perché non sapevo fino a quando potesse reggere ecco quindi lui passo che ha, arriva in condizione prima, a differenza magari di Viviani che ha bisogno di più tempo per come è strutturato quindi lui è rientrato e ha fatto bene, il primo tempo è stato perfetto. Diciamo che ci sono anche gli avversari che hanno buttato dentro una seconda punta, si sono alzati un po' di più gli esterni quindi qualcosina è normale perdendo, hanno fatto anche loro, ci hanno costretti un po', ci pensavano un po' più alti quindi c'è anche questo però ripeto, i primi 7-8 minuti prima di prendere il gol abbiamo gestito molto bene appena abbiamo subito un'occasione da parte loro siamo andati in paura, questa è la preoccupazione di non portare a termine il risultato ha fatto sì che quando si va in paura non si gioca più perché più giocatori hanno portato davanti più opportunità di giocare in ripartenza c'erano, più spazi c'erano e non siamo riusciti a sfruttare io penso di sì, penso di sì perché voglio dire se questa squadra non avesse un'identità non ce l'ha nel primo e nel secondo tempo, quindi l'impronta c'è, le giocate ci sono, le occasioni si creano però ripeto il cinismo ci deve essere la concretezza perché non puoi creare tanto e chiudere col minimo scarto il primo tempo, quindi questo poi ripeto è fisiologico e umano che quando manca una cosa da troppo tempo faresti qualsiasi cosa per ottenerla e questo magari ti rende la vita un po' più difficile sono sicuro sì perché abbiamo giocato contro una grande squadra, non gli abbiamo concesso praticamente quasi nulla e noi abbiamo creato tanto, la metà campo l'hanno superata non tante volte, la manovra, le giocate c'erano i movimenti, le sovrapposizioni, abbiamo visto ritmi anche alti, insomma mi è piaciuto troppo il primo tempo è stato bello, però ripeto, bello, queste partite si chiudono sì, purtroppo sì, però dobbiamo pensare a fare il risultato con chiunque, con Ragusa, senza Ragusa, con chi va in campo ripeto abbiamo in questo momento qualche defezione importante, però anche oggi purtroppo ci siamo bruciati un cambio nell'intervallo che ci ha un pochettino condizionato nel gestire anche la partita perché come ho detto prima un cambio è già stato fatto, qualche giocatore che non sapevamo la durata, diciamo l'autonomia di Brugge quindi qualche cosa ci ha frenato nel fare subito i cambi per gestire meglio la partita Ma non lo so, lo dovete dire voi che avete visto dall'alto, sicuramente Rivas ha fatto delle buone cose però non è stato incisivo come doveva essere, però al di là di questo abbiamo sofferto molto meno abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco che era quello che avremmo voluto nel primo tempo cosa che invece non siamo riusciti al di là del sistema di gioco dove magari gli esterni non venivano dentro a chiudere, non riuscivano a ripartire sì, sicuramente siamo andati a difendere più altri La sensazione è emozione perché comunque Pescara, io lo sai benissimo quindi quello che ho dato, quello che ho lasciato e quindi sono ritornato a rivedere vecchi amici con piacere C'è un po' di rammarico per non averla vinta questa partita? Sì, per come è andato il secondo tempo sicuramente Perché il Pescara invece è calato, perché è cresciuto lo Spezia, via di mezzo? Questo me lo dovete dire voi, probabilmente una cosa ha escluso l'altra Obiettivi dello Spezia, adesso che siete in serie positiva? Quello di migliorarci ogni domenica, non è semplice perché comunque la Serie B non è facile contro chiunque però la squadra sta crescendo ed è quello che volevo vedere Una sensazione sul Pescara la possiamo chiedere a Giovanni Stroppa? No, non riesco Assolutamente, sono l'ultimo che devo parlare del Pescara Grazie